Il nuovo B725 vanta una bascula bassa che abbina le qualità di affidabilità e di longevità dei sovrapposti Browning ad una bascula con un profilo più basso e compatto. I vantaggi ed i benefici sono molteplici. La bascula bassa permette una mira più rapida e quindi un tiro più istintivo. Il rinculo in linea limita l'impennamento della canna, offrendo un maggior comfort per il tiratore e migliorando la maneggevolezza ed efficacia durante il tiro. Il B725 è l'unico fucile sovrapposto che associa l'affidabilità e la robustezza di un ampio tassello piatto e di un perno di apertura unico ad una bascula bassa.